Cento anni fa nasceva Aldo Ducci, storico sindaco e partigiano, ma questo 16 luglio Arezzo ha celebrato anche il 79esimo anniversario della sua liberazione dal nazifascismo ed è stata così una giornata nel segno del ricordo per la città. Per celebrare la figura di Ducci, storico sindaco aretino, antifascista, partigiano e presidente provinciale e dirigente nazionale Ampi, un doppio appuntamento, un incontro dibattito e poi la mostra Aldo Ducci, immagini, documenti e ricordi, organizzata dalla sezione aretina di Ampi con il patrocinio del comune e della società storica aretina. È esauriente, anzi esaustiva, dal periodo della clandestinità di Aldo Ducci fino alla fine del suo regno, chiamiamolo così, che fra l'altro credo sia forse più lungo di quello di Cosimo I. e la figura di Aldo Ducci viene rappresentata in maniera esemplare sia da Paolo Ghelli, che è stato il ragioniere capo del comune, e sia da Nino Materazzi. Ghelli ha fatto un intervento appassionato e molto pertinente. La mostra, eccola qua, decine e decine di fotografie che testimoniano un'attività seconda e instancabile per una città che lui indubbiamente amava. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 29 luglio.